Ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale in apertura, linea subito alla redazione per gli ultimi aggiornamenti di Cronaca. Ancora una frana in Vallestrona, era prevedibile con le piogge tremende di questi giorni che potesse accadere da chieduto, stavolta in un punto anche abbastanza singolare, dove non era mai avvenuto esattamente in questi termini e in queste proporzioni. Si è staccata una frana sotto l'abitato di Luzogno, ha praticamente travolto tutto quello che c'era, insomma tutto il percorso, sono circa 300 metri di linea d'aria come si può vedere, danneggiate due strade, due tornanti, per cui la strada adesso rimane tutto quanto bloccato. Venendo giù il fango ha portato via alberi, ha portato via anche grossi sassi, grossi macigni, tutto quanto fino a tutt'oggi, insomma, fino a questa sera si lavorerà per cercare di ripristinare la situazione in maniera normale. La frana, il fango e gli alberi hanno lambito, ma per fortuna non hanno danneggiato, almeno non in maniera significativa, le abitazioni che sono proprio qui all'ingresso dell'abitato di Strona. La frana, che potrebbe anche aver compromesso un pezzo di strada, questo è il timore, la strada provinciale comunque ha portato l'isolamento di Inugio e di Luzogno, ambe due sono poi alla fine 450 abitanti, non è che siano pochi. Ormai ci siete abituati, verrebbe voluto di dire. Sì, siamo abituati, siamo sempre abituati a dire, anche fortunatamente non si ha fatto male a nessuno, ecco perché finora nel male non si è mai fatto male a nessuno. Adesso questa qua è una situazione un po' pesante in quanto abbiamo due abitati, due frazioni, Inugio e Luzogno, che sono parzialmente isolate, non sono isolate in quanto abbiamo una strada comunale che da Luzogno passa per poi per Chiesio, però il problema sarà domani mattina capire per quelli che dovranno andare a lavorare e fare guardiania per fare passare sensi unici. Il problema poi ci sarà anche dopo domani in quanto abbiamo le scuole che rientrano, dunque c'è da capire, poi dopo Luzogno abbiamo la scuola elementare, dunque le maestre potrebbero entrare, ma soprattutto il problema sarà per i ragazzi che vengono giù a Stronaca, scuole medie, da capire, ecco, sentirò il provvedido orato, sentirò la direttrice per capire cosa fare. Così al momento la strada sembra davvero compromessa? No, la strada adesso, a parte che adesso sta lavorando già l'impresa per vedere se non ci sono danni per strutturare la strada, perché se fosse solo questione di liberarla, il problema sarà poi verificare se la strada, i muri di sostegno e tutto sia per correre, ecco, se fosse non danneggiata la struttura avremo e passere poi dopo faremo un'ordinanza di viabilità magari a senso unitornato, questo vedremo tra il geologo e il mio tecnico e io vedremo poi dopo cosa fare. Una situazione che purtroppo non è nuova in Vallestrona, Reinaldi? Ormai siamo abituati, una volta sì, una volta no, abbiamo sempre questo problema e dal 2014 come amministratore appena entrato, già allora è successo l'alluvione, diciamo, l'alluvione nel 2014, poi 2020 e adesso anche quest'anno ci ha dato una bella mano, diciamo, i giorni di Pasquetta. Verificarsi di questi episodi come è possibile, come è possibile arginarli? Arginarli, prevenzione, più che altro manutenzione che ultimamente, negli ultimi anni, la provincia ci ha secondato, però non avendo i fondi non è riuscito a marginare tutti i problemi che c'erano e d'altra parte dopo le conseguenze sono queste. Luca, l'intervento della protezione civile è stato quanto mai providenziale, insomma? Noi ricordo che siamo in emergenza da due giorni perché siamo in allerta arancione già da qualche giorno e siamo intervenuti come coordinamento provinciale in Valanzasca e questa mattina siamo venuti in Vallestrona e adesso sta intervenendo la dita incaricata e quindi noi porteremo la Torre Faro perché si intende lavorare magari anche con il buio per rendere più agevole l'operazione del lavoro. Palanghe, Frane e Grandine. Pasqua 2024 resta negli annali della storia locale per il maltempo. In Ossola a causa di smuottamenti permane almeno fino a domani mattina il divieto di transito lungo la strada comunale Cisore-Monteossolano nel comune di Domodossola. Sono tre i punti qui ad essere interessati da Frane. Non va meglio a Villadossola dove fino alle 10 di martedì mattina è in vigore l'ordinanza di chiusura della strada comunale di collegamento tra le fazioni di Valpiana e Tappia. Fino a martedì mattina rimarrà operativo il centro operativo comunale che sin dall'inizio dell'emergenza ha monitorato e coordinato i vari interventi. In Valle Anzasca, in località Molini, è in vigore il senso unico alternato con servizio di guardiania istituito nel giorno di Pasqua dove una frana ha compromesso oltre alla viabilità locale anche quella lungo la statale 549. Nelle ore notturne vige però il blocco della circolazione. C'è poi la questione valanghe che il bollettino ARPA indica fino a domani in forte sulle Alpe Pennine e le Pontine. Chiusa fino a domani la strada internazionale del Sempione dove sabato alcune clavine anche di grandi dimensioni hanno invaso il letto del torrente di Veria fino a lambiere la strada. Con il ritorno del bel tempo la commissione valanghe sorvolerà alla zona per valutare la situazione e decidere. A Macugnaga, dopo l'allarme del fine settimana, la situazione sembra in miglioramento e da domani si torna a sciare sulle piste del comprensorio del Belvedere. Sulle piste del Moro bisognerà attendere fino al fine settimana. L'ordinanza di divieto di accesso firmata dal vice sindaco nei giorni scorsi sarà dunque limitata solo ad alcuni sentieri per pericolo slavine in Val Formazza. Invece dalle 19.30 di oggi fino alle 6.30 di martedì mattina la strada statale tra Cadarese e Fondovalle sarà chiusa e permane ancora il divieto di transito tra Canza e la cascata del Toce in Alta Valle. La pioggia di questi giorni sta facendo crescere il livello del Lago Maggiore. Già in mattinata le acque del Verbano lambivano il lungo lago di Ferriolo a Baveno e a Pallanza a Verbania. Il porto di Intra, come avviene ad ogni ondata di maltempo, forte, anche questa volta ha fatto da collettore di tutto il materiale per lo più legnoso, sceso a valle attraverso gli affluenti del lago. Nel pomeriggio il consigliere regionale Alberto Preioni si è messo in contatto con il presidente della diga della Miorina per sollecitare l'apertura delle paratie e scongiurare danni ai centri liberaschi. Ho ricevuto l'assicurazione di celleghista circa il fatto che la diga al momento stia lasciando defluire tutta la portata in entrata. e a causa di una frana in territorio elvetico tra Camedo e Locarno interrotto da oggi il servizio sul versante ticinese della ferrovia Bigezina. Il servizio è assicurato attraverso bus sostitutivi mentre è operativo regolarmente sul tratto italiano. E quando le previsioni meteo sembravano concedere una tregua sul basso Verbano invece si è avviattuta una violenta grandinata. Tutto si è improvvisamente imbiancato. Il paesaggio è diventato quasi invernale e ad una prima vista poteva essere scambiato per neve scesa dal cielo. La grandine non ha certo facilitato il rientro di quei turisti che nonostante tutto hanno scelto le località lacustri del Biceo e dell'Alto Novarese per trascorrere il giorno di Pasquetta. E ora il punto sulla Pasqua. Il maltempo ha frenato l'arrivo di qualche turista. Proprio il meteo ha costretto diverse stazioni sciistiche del comprensorio di neve azzurra a fermare gli impianti. Primo bilancio di questo avvio di stagione sotto la pioggia col presidente del distretto turistico dei Laghi e delle Valli Francesco Gaiardelli parla di una Pasqua che comunque ha fatto registrare arrivi importanti con alberghi e altre strutture ricettive aperte con i principali attrattori locali che hanno aperto i cancelli dal parco di Villa Taranto alle isole Borrome. Peraltro una parte del nostro turismo abitua e quello del nord Europa non si spaventa per pioggia e freddo e nelle Valli sono tante e le seconde case aperte prosegue sottolineando l'importante lavoro svolto in sinergia da tutti gli addetti ai lavori sia del lago che della montagna. Gaiardelli non nasconde qualche preoccupazione per la situazione internazionale con le guerre in corso ma la gente comunque non rinuncia a viaggiare, aggiunge. Lo stesso ricorda la presentazione nei giorni scorsi a Torino dei numeri da record per il Piemonte per il nostro distretto turistico, quest'ultimo nel 2023 ha fatto registrare 1.300.000 arrivi e 4.700.000 presenze. Importanti la partecipazione del Piemonte a bene 33 fiere e le azioni svolte sui territori dalle ATL. Insomma, quest'anno, se il movimento non è certamente paragonabile a quello di una festività con il cielo azzurro comunque sono diversi i vacanzieri che non hanno disdetto le loro prenotazioni e sono arrivati tra laghi e montagne muniti di ombrello e giacca pesante per trascorrere comunque qui qualche giornata. Come sempre è sostenuto il traffico lungo le principali arterie e tante targhe straniere in circolazione. Ora invece parliamo di Villa Campari storico edificio di proprietà della famiglia Berlusconi. Dopo la morte del Cavaliere alcuni rumors davano come possibile la vendita dell'immobile situato sul lago Alesa. proprietaria invece è ora Marina Berlusconi. Marina Berlusconi si è presa a Villa Campari a Solcio di Lesa. Ha 30 stanze, un porticciolo privato e un parco secolare. Questo smettisce le voci di vendita trappelate quando il Cavaliere iniziò a non frequentarla più per l'età e lo stato di salute. La dimora fu fatta costruire nell'Ottocento dal patriota milanese Cesare Correnti poi acquistata dalla famiglia Campari, quella del bitter. Parte del patrimonio personale di Silvio Berlusconi oggi appartiene alla primogenita Marina. Questo fa parte delle news dei primi accordi tra i cinque eredi di Silvio Berlusconi che da mesi operano per spartirsi un patrimonio immobiliare con le storiche residenze di famiglia stimato del valore di circa 600 milioni di euro. E così, dopo il passo in avanti di Barbara Berlusconi primogenita dei figli di Miriam Bartolini alias Veronica Lario che ha acquistato la celebre villa di Maccherio per 25 milioni di euro. Si sfila anche la presidente dei Fininvest, Marina che si sarebbe aggiudicata la villa di Solcio. L'immobile parte del tesoro di famiglia del 2008 l'unico a far parte direttamente a capo di Silvio Berlusconi. La trattativa dal notaio resta al momento riservata e il valore della villa rimane avvolto nel mistero. A decidere di non mettere in vendita la regia ottocentesca al contrario di quanto accaduto per Villa Certosa in Sardegna sarebbe stata proprio Marina in accordo con i fratelli e con il marito Maurizio Vanadia. Una dimora in stile neoclassico acquistata già in età avanzata e comunque preferita dal fondatore di Forza Italia che amava rifugiarsi nelle stanze della proprietà e passeggiare nel verde del parco secolare affacciato al lago e con porticciolo privato. In famiglia, soprattutto in occasione dei suoi compleanni il 29 settembre oppure recentemente con l'ex fidanzata Francesca Pascale. Non solo, a Villa Campari si tenono anche degli incontri politici importanti il più noto nel 2010 quando il leghista Umberso Bossi abbandonò la villeggiatura per discutere a Solcio del futuro del governo dopo la crisi tra Berlusconi e Gianfranco Fini. In vano. La mediazione in riva al lago purtroppo fu un buco nell'acqua. Dolce. Cambiamo argomento il sistema Piemonte in tema di donatori di sangue si conferma tra i migliori d'Italia il dato arriva dalla regione l'assessore alla sanità ha ringraziato i tanti donatori che rendono possibile tutto questo. Nel programma nazionale di autosufficienza di sangue demo derivati 2023 la regione Piemonte è entrata a far parte del gruppo delle regioni più virtuose assicurando indici superiori ai target nazionali. Complessivamente nel 2023 i donatori di sangue in Piemonte sono stati 117.335 nel 2022 erano stati 114.269 andando a recuperare così la situazione pre-Covid. E' inoltre cresciuto il contributo all'autosufficienza della regione Sardegna 12.324 unità cedute nel 2023 contro le 11.440 dell'anno precedente con previsione di aumento ulteriore per l'anno in corso. Nel 2023, infatti osservato l'assessore alla sanità della regione Piemonte Luigi Icardi è continuata la collaborazione tra rete trasfusionale pubblica e associazioni dei donatori nell'attuazione del progetto pilota varato nel 2021 tramite le cabine di regia trasfusionale di Area per contrastare le criticità registrate in Piemonte sulla raccolta di sangue e plasma a causa soprattutto della carenza di personale sanitario delicato. Per quanto riguarda il conferimento di plasma per la produzione di farmaci emoderivati l'incremento è stato del 5,8% con un apporto di 75.549 kg rispetto ai 71.381 dell'anno precedente. L'assessore Icardi ha inoltre ricordato che è stata avviata la seconda edizione del Master in Medicina Trasfusionale per Infermieri succede in collaborazione con l'Università di Torino integrata da un Master dedicato ai tecnici di laboratorio sulla produzione degli emocomponenti. E noi ora vi portiamo a conoscere una di queste realtà l'Aviso Solana che nel 2024 festeggia un traguardo importante ai 70 anni di attività. Attualmente siamo intorno ai 3.900 sono più maschi che femmine però questo è dovuto a una questione fisiologica anche perché i donatori maschi possono donare 4 volte all'anno le donne invece in età fertile possono donare solo 2 volte all'anno. E come si fa a diventare donatori di Aviso Solana? Bisogna inoltrare domanda alla nostra segreteria quindi la domanda può essere presentata fisicamente qui in sede oppure compilando un form che è disponibile sul nostro sito www.avisossolana.it Gli aspiranti donatori verranno sottoposti a visita medica da parte del personale del centro trasfusionale la visita medica consiste anche in un elettrocardiogramma chiaramente per stabilire le condizioni di salute della persona se verranno dichiarati i donnei verrà fissato l'appuntamento per la prima donazione con un gesto piccolissimo e con ad esempio la donazione di sangue intero che dura circa un quarto d'ora c'è la possibilità di salvare davvero delle vite il sangue spesso viene richiesto in casi eccezionali quali ad esempio incidenti stradali o epidemie ultimamente viene richiesto un pochino meno per quello che riguarda gli interventi chirurgici perché chiaramente le tecniche sono migliorate ma ciò non toglie che il sangue serve sempre e servono anche i componenti del sangue ad esempio il plasma e le piastrine presso la Caritas interparrocchiale di Baveno in piazza della Chiesa a due ogni venerdì dalle 14.30 alle 16.30 è stato attivato lo sportello di mediazione digitale e orientamento al lavoro per appuntamenti contattare l'indirizzo e-mail sportello chiocciolacopilsogno.it lo sportello offre uno spazio gratuito di accoglienza affiancamento digitale e orientamento ai servizi sul territorio serve per compilare richieste di voucher e bonus di sostegno a reddito per sapere come funzionano i servizi di uffici comunali quando è utile rivolgersi a chi per l'affiancamento nella ricerca del lavoro e di offerte formative aiuto nella compilazione di domande online e compilazione dei curriculum il progetto è un'iniziativa nell'ambito dei sostare reti di sostegno all'abitare bandi di reti territoriali contro la povertà una città di domodossola cardioprotetta al lavoro pediacop insieme con gli amici del cuore sono già stati acquistati 20 nuovi defibrillatori che si aggiungeranno ai 10 già presenti sul territorio cittadino nel capoluogo e nelle frazioni pediacop sosterrà anche corsi di formazione presso il collegio rosmini maschile per l'uso di queste apparecchiature obiettivo è posizionarli in luoghi in vista e facilmente accessibili da tutti state lavorando con gli amici del cuore per una domodossola cardioprotetta quali saranno i tempi di questo progetto e come si svilupperà allora i tempi sono brevissimi penso che li abbiamo già acquistato i defibrillatori quanti? sono circa 20 oltre ai 10 già presenti sul territorio e vi saranno 30 defibrillatori quello che è importante è che sia insegnato a tutti i cittadini ma soprattutto alle forze dell'ordine all'utilizzo per cui come cooperativa faremo dei corsi di alloggiamento presso il rosmini maschile per insegnare a tutti come si usa il defibrillatore che tutti parlano ma nessuno sa come si usa allora abbiamo pensato di mettere dei docenti capaci di insegnare alla popolazione stessa queste apparecchiature saranno posizionate in centro ma anche nelle frazioni? in tutte le frazioni e nel centro cittadino ma dove adesso c'è gli amici del cuore che stanno facendo il sopra luogo e chiedo anzi che sia garantita la possibilità di affiggere in luogo pubblico il defibrillatore anche i privati e i cittadini in modo che non sia difficile acquisire lo strumento per salvare una vita quindi diciamo a disposizione di tutti e non chiuso in luoghi difficilmente raggiungibili bravissima la nostra filosofia è quella deve essere a disposizione del popolo per cui tutti possono e devono saperlo usare e poterlo utilizzare nel momento in cui c'è un arresto cardiaco sulla strada Cannobbio ha presentato il calendario degli eventi della stagione primavera-estate 2024 un programma che spazia dalla musica fino agli appuntamenti per celebrare i 100 anni della locale sezione degli alpini tutto sintetizzato in un libretto tra l'altro di carta riciclata ecco gli eventi del 2024 estate di Cannobbio sì sono oltre 200 gli eventi che si susseguiranno sul nostro lungolago nel corso della stagione estiva tanti appuntamenti musica divertimento cultura ma non solo arte incontri internazionali Cannobbio si prepara a vivere la nuova stagione turistica sotto i migliori auspici in appuntamento sul nostro calendario abbiamo subito a maggio il 23 un evento col secondo festival del liscio con Matteo Tarantino una serie di eventi leone di note con Prando e Morellini che coordineranno una bellissima iniziativa tra le nostre frazioni tanti appuntamenti un'estate da vivere il 4 maggio una esercitazione con la disponibilità della nostra squadriglia a base della Guardia di Finanza non solo gli alpini il primo giugno un'estate da vivere il Summer City Bus che collegherà in 19 punti il nostro territorio stazioni per la ricarica delle auto elettriche e un'attenzione particolare all'ambiente e più piccini gli alpini che compiono 100 anni sì il nostro gruppo alpini celebra quest'anno il centenario e abbiamo organizzato insieme a loro un importante evento per il pomeriggio del primo giugno e auguri una stagione estiva di eventi che guarda fare rete una stagione ricca di eventi per confermare la grande crescita che abbiamo avuto in questi anni come città abbiamo avuto una crescita costante dopo la pandemia siamo riusciti a ottenere maggior numero di presenze con 430 mila presenze questo è grazie a tutti gli esercenti grazie alla nostra programmazione che facciamo culturale e turistica abbiamo deciso di fare un libretto come Cannobio abbiamo deciso di coinvolgere perché siamo anche capofila dell'Unione dei Comuni tutto il territorio perché come dico non bisogna più solo vendere il turismo del proprio territorio ma cercare di fare rete e vendere il prodotto e di allargare soprattutto la visione e la collaborazione con altri comuni tanti sono anche gli appuntamenti organizzati per il mese di aprile al Museo del Paesaggio appuntamenti rivolti ai più piccoli e alle famiglie un mese di aprile fitto di appuntamenti per i piccoli e per le famiglie al Museo del Paesaggio di Verbania sono ben due gli eventi dedicati ai piccoli e alle famiglie domenica 7 aprile la mattina a Casa Ceretti a Intra dalle 10.30 alle 12 torna a Laboratorio Aperto a cura di Laura Grassi di Liberarti appuntamento ormai fisso la prima domenica di ogni mese con attività per i bambini dai due anni in su al pomeriggio a Palazzo Viani Duniani dalle 15 alle 17 torna Disegniamo l'Arte undicesima edizione in collaborazione con l'Associazione Abbonamenti Musei e Carioca lo speciale appuntamento pensato per avvicinare bambini e bambine ai musei attraverso il disegno e la creatività L'edizione 2024 di Disegniamo l'Arte conta 167 realtà aderenti 89 in Piemonte ed è dedicata al tema della natura I bambini verranno accompagnati nelle sale del Museo del Paesaggio e potranno ricreare un paesaggio naturale con la tecnica del frottage davanti alle opere di Guido Boggiani e Federico Ashton come dei veri artisti in erba Per i bambini dei 5 anni in su il laboratorio firmato Liberarti e ispirato alle collezioni del museo è sempre fissato il terzo sabato del mese a Palazzo Viani e Duniani da segnare in agenda la data di sabato 20 aprile con il laboratorio dedicato allo scultore Valerio Tedeschi dalle 15 alle 16 e 30 la Pinacoteca collocata al primo piano del palazzo ospita fino al 12 maggio la mostra attraverso tele dell'Ottocento in dialogo con le sculture di Valerio Tedeschi e proprio questi lavori in marmo saranno fonte di ispirazione per le creazioni dei bambini info e contatti per le prenotazioni sulle pagine social del museo di Liberarti Al Cicin di Casale Cortecerro nei giorni scorsi il Panatron ha presentato un lavoro di ricerca di Adriana Balzarini dedicato a donne e motori Donne e motori un binomio che si presta un po' a tutte le interpretazioni e tutte le battute però attenzione perché il lavoro fatto da Adriana Balzarini di ricerca sulle donne e i motori è stata una sorpresa costante e continua La mia mostra non è concentrata sulle donne che corrono c'è anche questa parte ma questa è una parte marginale se volete la mostra parte da cosa hanno inventato le donne per le automobili e sono invenzioni che gli uomini non hanno voluto riconoscere se non poi lasciandogli scadere il berevetto e appropriandosene portandosene nelle grandi marche americane primo secondo le donne sono sempre state molto attente a ciò che è la sicurezza della strada l'altra parte della fase importante della mostra è le donne che hanno utilizzato l'auto anche per un'emancipazione femminile ma anche per essere al servizio quindi le prime taxiste quindi noi abbiamo una storia americana la prima assoluta nel mondo e la prima donna italiana e poi abbiamo le donne che hanno finanziato gli uomini perché potessero fare delle auto e fra queste la signora Benz era lei la proprietaria della Benz e non il marito abbiamo una donna ingegnere che si occupata di macchine anche di altissimo livello adesso ce lo dirà lei e soprattutto corre in macchina la mia passione è nata da mio papà che fin da piccolina mi ha messo sulle macchine quindi non poteva che finire così quindi ho iniziato con il go kart col fuoristrada poi dopo alla fine sono passata al rally e questa passione me la sono portata anche nella vita quotidiana di tutti i giorni quindi studiando ingegneria meccanica lavorando poi per grandi anche case automobilistiche come Pagani e Ferrari per poi rimanere sempre in un'azienda che lavora per automotive all'ossolo outdoor center di crevole ad ossolo è stato inaugurato il corner degli europei dei paesi di montagna l'evento sportivo sarà ospitato da macunhaga e si terrà dal 20 al 23 giugno nell'area 20 dell'ossolo outdoor center dal 28 marzo fino a giugno un'esposizione di fotografie e cimeli racconta la storia del torneo di calcio più pazzo delle alpi manifestazione patrocinata dai comuni di macunhaga e piedi mulera con il distretto turistico dei laghi monti e valli dell'ossola oggi all'ossola outdoor center di crevole ad ossola si inaugura il corner degli europei di che cosa si tratta? si tratta di campionetti di calcio per i paesi di montagna sono la sesta edizione questa quindi noi come vincitori dell'ultima Zermat siamo riusciti a portarli in Italia nell'ossola a macunhaga col piedi mulera che ci dà una mano qui facciamo la presentazione di tutto potete anche venire a vedere il nostro corner che ci sono delle foto belle da vedere che ricordano un po' la nostra vittoria quindi capite cosa vuol dire un campionato d'Europa l'appuntamento dal 20 al 23 giugno 2024 a macunhaga ci saranno otto nazioni si giocherà sì per il risultato ma anche per promuovere il territorio esatto non è solo calcio anzi è quasi l'ultima cosa perché anche i calciatori sono tutti i ragazzi che giocano qui nelle nostre squadrette però ci tengono a far bella figura quindi giocano bene e poi ci sarà un capannone che è dove noi faremo una ristorazione faremo servizio bar musica per fare un intrattenimento per quelli che sono i tifosi che verranno perché non arrivano dall'estero poi ci saranno anche gli italiani qui della zona quindi la cosa può essere senz'altro bella da vedere soprattutto davanti a Monterosa chi saranno i giocatori che rappresenteranno l'Italia dal 20 al 23 giugno 2024 a macunhaga la maggior parte saranno quelli del 2022 dipende dagli impegni che hanno magari in quel periodo qualcuno è impegnato non può venire la squadra sarà però svelata più avanti probabilmente tra maggio e giugno si tratta di ragazzi che giocano in campionati amatoriali si si tratta di ragazzi che giocano in prima categoria promozione tutti della Valle dell'Ossola e questa era l'ultima notizia il nostro telegiornale termina qui ancora buona serata di Pasquetta arrivederci alle prossime edizioni a Autore dei sovrapposti